benvenuti qui su formula 1 2020 mi scuso se lunedì e martedì non è uscito nulla questo video doveva uscire lunedì però ci sono stati per due giorni consecutivi due intoppi diversi quindi non ho avuto il tempo né di registrare né di montare neanche il video quindi purtroppo abbiamo perso due giorni però già sono bello carico pronto e ho paura di affrontare il gran premio d'olanda visto che ci toccherà una pioggia molto intensa come mostrano anche le previsioni del tempo detto ciò direi di affrontare subito il nostro tentativo unico nelle qualifiche e tentare una mezza follia allora il mio obiettivo è quello di lasciare questo assetto quindi quello predefinito e di non abbassare il abbassarlo anche in caso di pioggia perché comunque bisogna cercare di partire più avanti possibile visto il tipo di macchine che abbiamo quindi incrociamo le dita e speriamo che la qualifica possa andare bene se no saremo veramente in difficoltà tanto questa pista non è bruttissima mi piace girarci il secondo settore è abbastanza fastidioso e qua dobbiamo cercare di fare il miglior tempo veramente stando con l'assetto da asciutto così poi in gara soffriremo un po' mi sa però non è detto quindi vediamo al momento siamo primi si vede che gli altri hanno montato l'assetto da bagnato bene e allora saremo veramente in serie difficoltà però la seconda fila mi sembra un po' eccessivo ecco questo è il settore dove io vado a perdere di più succedeva anche nelle prove libere nono decimo andiamo di guadagnare qualcosina un po' ecco qua il cordolo eh niente non li ha presi un po' larghi la qualifica è importante poi in gara vedremo quello che si può fare ci siamo leggermente ripresi dopo le ultime due qualifiche che sono andate male decimo dai con un assetto da asciutto va benissimo si vede che gli altri avevano quello da bagnato la gara sarà abbastanza difficile abbiamo vinto ancora su gasli otteniamo due punti e lui uno quindi siamo 6 a 3 e vediamo la scuderia di quanto è aumentata che questo è la cosa importante quasi livello 6 buono dai quasi livello 6 va più che bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ho controllato il meteo pioverà per tutta la gara quindi pioggia pesante ho seriamente paura che forse questa gara potremmo anche non riuscire a concluderla ho seriamente paura ci vediamo in pista e speriamo bene guarda quanto piove però sono intermedie per un attimo ho pensato fossero full wet vabbè andiamo così tieni 19.8 perché comunque mi rendo conto che può magari posso consumarne un po' di più benzina e siamo pronti alla partenza e speriamo di non andarci a schiantare alla prima curva addosso a qualcuno stavolta non utilizziamo la malità a sorpasso addirittura mettiamo la miscela magra per evitare di pattinare troppo e speriamo di non avere grossi problemi alla partenza siamo partiti veramente forti e vabbè dai Sainz però mi chiudi così non potevo nemmeno accelerare e io piano, piano, piano che a stroll lasciamolo passare veramente rischioso qui prendo l'esterno vai su stroll no, 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 no evitiamo evitiamo problemi evitiamo veramente problemi la macchina stava andando per conto sua 18 giri d'inferno saranno questi sul bagnato abbiamo recuperato due posizioni alla partenza eravamo decimi siamo ottavi potevamo anche essere settimi però è meglio non rischiare soprattutto all'inizio direi di tenere la miscela magra per ora perché comunque mi rendo conto che va anche abbastanza bene guidare la macchina sul bagnato mamma mamma ho preso il cordolo ho preso il cordolo ben fatto buona partenza grazie vai vai con un po' di grass di sorpasso adesso su questo rettilino si può utilizzare appena andiamo leggermente su con le marce vai 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 mamma mia questa curva sul bagnato fa veramente paura settima posizione per il momento l'assetto bilanciato quello standard sta funzionando per il momento siamo settimi dietro Sainz e al tirando l'assetto da bagnato sicuro forse qualcosina la possiamo fare forse siamo ancora al secondo giro buono su Sainz è qua che ci avviciniamo tantissimo però qua non si può passare invece sul bagnato direi per il momento veramente di tenere la miscela magra tanto mi rendo conto che la macchina va abbastanza bene abito anche di perderla nelle curve e nelle ripartenze comunque settima posizione sono tanti punti per il momento appunto per noi che siamo una scuderia che è appena messo piede in questo mondo qua su Sainz che devo mancare no no ho preso l'air no sono andato in una sabbia no 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 che errore che errore andiamo a perdere parecchio anzi quantomeno qualcosa l'abbiamo recuperata un po' di miscela un po' di sorpasso anche se abbiamo consumato tutto siamo abbastanza vicini a Sainz in teoria se usciamo bene qua potremmo tentare all'esterno dai dai con un po' di sorpasso pure oh evitiamo di fare certe manovre va possibilmente ancora la gara è lunga e dico rischiare così mi sembra un po' troppo mettiamo un po' di miscela standard adesso vediamo che succede abbiamo una miscela standard cristo eh vabbè sarebbe meglio fare la gara tutta con la miscela magra e scendere veramente tanto di benzina a questo punto usciamo dalla curva dai mettiamo la miscela magra così in teoria abbiamo ci viene più facile la macchina non scoda dai dai eh mannaggia ci eravamo avvicinati a Sainz invece abbiamo perso praticamente tutto adesso col petto di grassa lo possiamo utilizzare quando siamo su un rettilineo dai ci può anche stare guarda quanto abbiamo guadagnato su Sainz mamma mia tra l'altro c'è una mercedes là dietro l'ho visto adesso ecco perché noi siamo sesti le settimi in lotta per la sesta dai però che qua non riusciamo ad avere lo spunto per avvicinarci un po' di years piano qui dai 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 che ce la faccio lo devo tentare il sorpasso su Sainz anche perché mi sta rallentando parecchio dai che ci sono quasi dai l'ultimo nel rettilineo finale tenterò il sorpasso vediamo se ci riesco ah no 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 troppo lungo eh scusa devo lasciargli la posizione perché sono andato veramente lungo sul cordolo anzi ho un miracolo che non mi si sia rotto niente mamma mia che errore che ho fatto ho messo nel momento peggiore la grassa dai 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 tutto il rettilineo perni tutta la scia cavolo ci manca quel qualcosa eh qua andiamo lunghi qua andiamo lunghi ci manca quel qualcosa per fare il sorpasso incrocio abbiamo noi l'interno no assolutamente no siamo andati veramente ma eh no arriva a strolla arriva a strolla arriva a strolla porca miseria ci manca quel qualcosa per effettuare il sorpasso alla fine ci manca quel qualcosa intanto qua allontaniamoci da da stroll e qua il fatto che siamo con un assetto da asciutto e in qualche modo in qualche modo si riesce a tenere la macchina in certe occasioni si vede proprio che si fa fatica però ci può dare quello spunto per tentare quel sorpasso che ci serve su Sainz abbiamo tentato un azzardo e per il momento sembra che stia pagando per il momento sarebbe bello se smettesse di piovere ma abbastanza vicini qua dobbiamo stare a Sainz anche se noi non siamo per niente vicini sorpasso utilizziamo anche la miscela grassa tanto abbiamo tanto carburante appresso ho avuto la batteria piano qua in curva vai che ci avviciniamo tantissimo ci manca veramente quel qualcosa in più per riuscire a effettuare il sorpasso so come fare mi devo ingegnare qualcosa dai 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 vicini a Sainz vicini tutta la gara dietro Carlo Sainz lo stiamo facendo per il momento direi che ci vediamo fra un poco tanto per il momento continuiamo a stare dietro Sainz e ci vedremo appena staremo per tentare il sorpasso adesso siamo abbastanza vicini vediamo se riusciamo in qualche modo in questo punto prendendo dall'esterno dai dai all'esterno all'esterno mamma mia che scodata lì mamma mia cosa ho tenuto e lo portiamo a casa il sorpasso fantastico al settimo giro ci portiamo a casa la sesta posizione sul Carlo Sainz e adesso ci tocca spingere adesso ci tocca veramente spingere qua quanto bene riuscire a tenerlo dietro sesta posizione col fatto che una Mercedes è fuori dalla zona punti e appunto non è fra le prime sei macchine significa tanto questo messaggio mi lascia un po' perplesso perché scusa il motore ah perché già il motore è un po' si usurato va bene queste ancora sono le prime componenti vabbè tanto dico alla fine siamo sul bagnato se gira a potenza ridotta mi fai solo un piacere evito di andare a schiantarmi contro un muro abbiamo già preso un po' di margine da Sainz quindi guadagni un secondo a giro sul pilota che ci segue eh beh sì dai l'ho superato subito altri dieci giri al termine la davanti c'è Albon è abbastanza improponibile andare a prendere Albon adesso però noi per il momento guidiamo tanto non sta succedendo niente se ci dovesse essere qualcosa ve lo mostrerò occhio che c'è Sainz che ogni tanto si avvicina e questa cosa è abbastanza pericolosa abbiamo avuto un paio di scodate in in alcune curve siamo stati leggermente sul cordolo e la macchina stava per girarsi a 360 gradi infatti Sainz un po' si è avvicinato e abbiamo perso tantissimo dalle macchine che avevamo dietro facciamo un po' di fatica adesso a guidare sul bagnato stavamo per fare due abbiamo fatto due intertempi buoni nel giro dopo aver superato Sainz un fucsia nel primo settore il secondo settore con la mia migliore stazione personale e poi però l'ultimo settore abbiamo rischiato veramente di combinare un danno andando leggermente sull'erba è una gara abbastanza in solitaria di concentrazione visto che davanti non possiamo andare a prendere nessuno ovviamente e dietro bisogna difendersi o quantomeno mantenere le distanze andiera gialla andiera gialla dietro di noi qualcuno è uscito qualcuno dietro è uscito Raikkonen è fuori gara non mettere niente in pista ti prego perché già ho i miei problemi e neanche una safety una virtual col bagnato non metti niente va bene dai dai che facciamo no abbiamo migliorato il tempo il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro no questo cordolo qua è una tragedia questo cordolo qua è una tragedia se ci sali sopra è la fine se tocchi qualsiasi cordolo in questo momento è la fine per me peccato perché c'è stato un momento in cui pensavo forse di potermi avvicinare ad Albon però mi sono reso conto che appena mi sono avvicinato leggermente hanno cominciato ad incrementare il ritmo davanti e quindi è finita attenzione attenzione ma dov'è? là davanti bandiera gialla qualcuno ha sbattuto qualcun altro no no è sempre il Raikkonen che è fuori gara ma poi guarda la posteggia lì e non metti la Serticar no il cordolo e Sainz torna sotto diciamo di allontanarci un minimo niente qua abbiamo perso veramente tanto ho perso tutto in quella cura quel cordolo lì è maledetto basta che lo tocchi veramente pochissimo con la ruota quello lì già sei fuori quasi fortuna con questo assetto riusciamo a tenere dietro Sainz abbastanza bene non avessimo avuto l'assetto misto di quello bilanciato e da questo ora potremmo avere grossi problemi ci sta a tentare un azzardo una volta ogni tanto guarda che lungo qua guarda che lungo no 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 sono andato sull'erba e va bene mettilo sotto pressione facciamogli commettere un errore eh ma adesso lui scappa è un momento nella gara in cui danno più ritmo di me adesso loro davanti loro dietro guarda come va via Sainz dai che ci vuole veramente concentrazione sul bagnato più del previsto vediamo si riusciamo a effettuare di nuovo il sorpasso su Sainz bene il rettilineo finale quello che porta al traguardo sicuramente potremo rifare il sorpasso lì occhio qua troppo lunghi ho frenato troppo tardi questo è quello che succede perdi da Sainz e si riavvicina Stroll e Perez è un attimo che sei fuori dai punti quasi usa tutto usa tutto tutto quanto già non ho più non ho più Earth già da utilizzare in questo giro ma che cavolo che Sainz mi rallenta io giro più veloce di lui e si vede sto sempre incollato di nuovo di nuovo ritentiamolo all'esterno come prima con un po' di sorpasso uuu con l'Hers che ci aiuta nello stesso punto di prima abbiamo rieffettuato il sorpasso sul Carlo Sainz la sesta posizione oggi è mia Carlos per favore Fuxi addirittura nel primo settore mamma mia 37-1 miglior tempo assoluto nel primo settore vediamo il secondo settore se facciamo veramente il miglior tempo qua sul bagnato c'è da ridere verde il secondo settore quindi miglior tempo personale dai a questo punto tentiamolo di fare andiamo sul rettilineo finale con miscela grassa ed Hers dai vediamo se riusciamo a farlo il miglior tempo sul bagnato nooo non ce l'ho fatto ho fatto fuxia nel primo e ultimo settore ma non ho fatto il miglior tempo 23,6 secondi porca miseria io ho preso le distanze da Sainz adesso 1.4 addirittura facciamo il miglior tempo punto addizionale eh vabbè ho spremuto tutto dalla macchina ho fatto veramente un giro al limite pur di portare a casa il punto perché ho visto che sta andando bene in questo momento la macchina in questo momento esatto della gara sta spingendo tantissimo non capisco perché anche se il meccanico mi ha detto che fra un poco perderemo aderenza e infatti le gomme sono parecchie usurate 42% 32 37 31 oh che terapata lì no l'erba no 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 ecco vedi io capisco il perdere aderenza però così è troppo ogni volta che sto per per allontanarmi abbastanza da Carlo Sainz succede qualcosa per cui si deve rifare sotto quindi oggi mi sa che è lui il nostro avversario principale purtroppo le lotte con gas di che abbiamo visto in Bessanam vado in radar il temporale dovrebbe durare un po' vabbè non ti preoccupai tanto ormai la gara sta finendo quindi mi accontendo però buono dai sesto col punto addizionale la macchina nella seconda parte di gara non so perché va meglio rispetto a quella degli altri in certi versi in alcuni punti basta andare sull'erba mi raccomando attenzione che questo è l'ultimo giro sta iniziando adesso cerchiamo di portare la macchina a casa senza danni senza problemi sei all'ultimo giro dieci secondi e uno da da Algon e un secondo e otto di vantaggio su Carlos Sainz ci fosse una bandiera gialla nell'ultimo giro davanti e prendere una quinta posizione inesperata sarebbe bellissimo però ci accontentiamo ricordiamoci sempre che abbiamo fatto un azzardo e stranamente appagato sesta posizione sesto il miglior risultato che abbiamo fatto finora tutto merito della pioggia è infatti pilota del giorno guarda non avevo dubbi non avevo dubbi ok guarda 9 punti abbiamo preso 9 punti ottimo guarda lì Bottas 13 su Hamilton poi c'è Vestapp e Leclerc Albon noi abbiamo guadagnato una posizione su Lando Norris 15 punti noi 12 Norris eh ma abbiamo perso la posizione sulla racing point per il momento siamo settimi perché giustamente loro sono due macchine quindi hanno guadagnato però restiamo là dietro questi 9 punti ci fanno tanto respirare il nostro compagno è arrivato per dovera è ventesimo è partito ventesimo è arrivato va bene dai mi ha fatto l'intervista e speriamo che mi faccia domande buone signorina perché durante le prove libere 2 mi hai fatto domande brutte e non ho risposto nemmeno a una quindi mi raccomando vedi quello che devi fare ottimo lavoro eh dai fammi la domanda giusta stavi zigzagando tra gli altri piloti durante il tempo eh il telaio il telaio serve tanto come pensi chi abbia influito il clima sul risultato di oggi eh ha cambiato la strategia ma migliori piloti hanno comunque dato il meglio noi siamo fra quelli visto ti ringrazio ti ringrazio perché ti ho cercato due domande durante le prove libere appunto e lei si è abbastanza incazzata perché non le ho risposto 4 a 2 su Gasly ovviamente stavolta non c'è storia Pierre tipo torni a casa sotto di 5 punti dopo questa gara poi ci interessa vedere la scuderia che sale a livello 6 e noi che ci avviciniamo a livello 5 dai dai guarda là guarda incremento e quindi sono soldi extra e poi ah sorpassa 5 piloti non l'abbiamo fatto giustamente non c'erano pistop 12.000 ti danno perché ho toccato un muro 12.000 costa l'ala pochi soldi pochi soldi pochi soldi abbiamo fatto in questa gara veramente speravo di fare qualcosina in più però vabbè dai ci sta non essendoci sorpassi da fare dico non è che puoi fare miracoli col pit dei sorpassi in più li puoi fare senza pit non puoi fare nulla quindi va bene così dai mettiamoci a casa quel poco che ci spetta tanto comunque abbiamo le entrate settimanali degli sponsor e infatti eccole qua mille ah perché volendo potrei comprare le mie abilità del pilota però per il momento no volevo vedere una cosa io tanto bene le componenti ce le abbiamo ricerca e sviluppo visto che comunque sappiamo che il motore è quello che è e va bene però vedendo quando arriva visto che c'è il gran premio di Baku che è una pista dove il motore spinge direi dico il 40% di guasto questo cosa non arriva prima del gran premio di Baku io ci provo ma non arriva e ancora stiamo aspettando il telaio dell'aerodinamica per il momento no qua non possiamo fare veramente nulla mi sa no perché è tutto 2 milioni quello che interessa a me è 2 milioni e non abbiamo i soldi va bene andiamo avanti meno 5 mila GP di Spagna aspettiamo le migliorie e aspettiamo 3 2 dovrebbero arrivare lo stesso giorno quindi l'11 maggio dovrebbe essere a questo punto dopo la gara sì dopo la gara di Spagna e poi il 3 giugno prima di Baku in teoria dovrebbe arrivare l'evoluzione della potenza del motore speriamo che possa arrivare perché ne abbiamo veramente bisogno detto ciò noi ci vediamo con la prossima gara che sarà appunto in Spagna e speriamo anche lì di riuscire a ottenere ottimi risultati al prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti.